In questo video parliamo di Plauto. Plauto è un autore teatrale, uno scrittore di commedie che vive a Roma tra il III e il II secolo a.C. Plauto continua quella lunga scia di autori, come abbiamo visto con Livio Andronico e con Ennio, che arrivano a Roma in questa fase, un momento in cui Roma sta crescendo, Roma si avvia a diventare quello che poi sarà un grande impero. A differenza però di Livio Andronico e dello stesso Ennio, Plauto era nato in una regione, l'Umbria, il paesino da cui arriva Sarsina, è un paesino che allora appunto cadeva nell'Umbria, un paesino che è in un'area diciamo così periferica, un'area sicuramente di tradizione antica, ma italica, un'area che insomma già dal IV secolo era abitata appunto da queste popolazioni. Un'area anche tutto sommato abbastanza lontana da quelle che invece erano state le correnti culturali provenienti dalla Grecia, forse da questo punto di vista ecco l'area dell'Italia centrale, l'area appenninica era più vicina a quella dell'Etruria, insomma degli Etruschi, della cultura etrusca, con la quale la cultura Umbra probabilmente ha anche qualche affinità. Lotto era un uomo libero, un erudito di età imperiale che si chiama Ologellio, ci racconta di lui diverse cose, in particolare sottolinea il fatto che sarebbe stato un grande uomo di teatro che avrebbe recitato, che a un certo punto sarebbe caduto a tal punto in disgrazia sul piano economico perché aveva accumulato una serie di debiti, da essere costretto a girare la macina di un mulino per lavorare, per ripagare questi debiti. In realtà questa notizia che Ologellio dà sembra però molto calcata sui personaggi, anche sui servi in particolare, delle commedie plautine. Un primo problema che si pone su Plauto, che ripeto fu sicuramente di nascita libera, ma insomma non è che ne sappia moltissimo, è sicuramente quello del nome. Perché quello del nome? Ma perché immaginare che in quest'epoca così antica un personaggio, per di più italico, potesse avere un nome completo, secondo quello che era l'antico sistema gentilizio romano, quindi prenomen, nomen e cognomen, è abbastanza strano. Peraltro ci sono appunto dei riferimenti linguistici che ci fanno pensare che questo nome non sia esattamente quello di Plauto. Tanto per cominciare è soltanto un codice, un manoscritto molto antico di Plauto, il cosiddetto palinzesso ambrosiano che fu scoperto nell'Ottocento, che riporta questo nome nella forma in cui noi oggi lo ricordiamo, Tito, Maccio, Plauto. In realtà nelle edizioni precedenti esisteva un Titus, una M puntata, che molti pensavano come un Marcus e poi un Accius, quindi insomma era una forma Titus, Marcus, Accius che non era ben chiara. Ci sono poi una serie di altri elementi che fanno pensare. Beh, innanzitutto il fatto che la parola Plautus potrebbe essere ricondotta a una parola Umbra, Plautus, che significa dalle orecchie pendenti, insomma è una specie di cane anche tipico di quella zona, una sorta di bassotto, così come il fatto che questo stesso aggettivo faccia riferimento anche al difetto dei piedi piatti. I piedi piatti era una cosa che insomma sembrava anche un po' tipica degli attori, proprio perché non stavano certi calzari, spesso avevano questo tipo di soprannome. Insomma, quello che sembra possibile, sembra pausibile, che di questi tre nomi che noi abbiamo, quello che forse davvero poi dovette utilizzare Plauto fu proprio quello di Maccius, perché questo Maccius in realtà sembra modellato sul nome Marcus, sul nome della maschera tipica dell'atellana, per cui è probabile che fosse, come dice qualche studioso, insomma anche una sorta di nome di battaglia di Plauto stesso, è come se indicasse quella maschera per antonomasia, del resto, come abbiamo detto, la tradizione racconta anche di un Plauto attore, per cui magari era particolarmente versato nel recitare questo tipo di ruolo. E' possibile che la forma appunto più antica dei codici con la segmentazione Marcus Satchus sia una sorta di errore che i codici stessi hanno fatto nel parlare di Plauto. Che sappiamo invece dell'opera di Plauto? Beh, sappiamo che su Plauto scrive intorno all'inizio del I secolo a.C. un erudito che si chiama Marco Terenzio Varrone, scrive un'opera che si intitola De Commedis Plautinis, nella quale prova a individuare all'interno del vasto, già allora vasto patrimonio di commedie attribuite a Plauto, quelle che erano davvero dell'autore. Sappiamo che ai tempi di Varrone, ben 130, erano le commedie attribuite a lui. Varrone provò a fare una sorta di distinzione pensando e scrivendo di 21 commedie assolutamente autentiche, di 19 commedie invece discusse, ma che secondo lui potevano in qualche modo essere considerate buone, e di un terzo gruppo invece di commedie che dovevano essere assolutamente considerate spurie. Ora, è chiaro che lo studio di Varrone è uno studio che dovette essere documentato. Insomma, Varrone era un eurido, si diceva, che lavorò molto anche sulle fonti. Oggi si tende a considerare come Plautini appunto queste 21 commedie varroniane. Più complicato è stabilire un filo all'interno di questa produzione, nel senso che da qualche riferimento che noi abbiamo, per esempio a proposito dello Sticus, che è del 200 a.C., o allo Pseudorus e alla Casina, insomma, che ci riportano agli anni tra il 191 e il 186. Insomma, quello che possiamo pensare è che Plauto ebbe un'attività piuttosto lunga, se è vero, insomma, che scrisse praticamente fin quando morì, che è la morte, lo colse appunto nel primo decennio del secondo secolo a.C. Il fatto che ci sia questa, diciamo così, questa nutrita serie di commedie attribuite a Plauto non deve meravigliare, nel senso che è qualcosa che è tipico anche del mondo, del teatro latino, nel senso che, come abbiamo avuto modo di osservare, le commedie latine venivano rappresentate in teatri assolutamente improvvisati da compagnie vere e proprie che avevano una commissione praticamente dagli edili. Ora, le compagnie avevano chiaramente necessità di fare cassa, per cui quando si diffondeva la fama di uno scrittore era facile che capitasse che la compagnia mettesse in scena un testo presentandolo come un testo di quell'autore. Per cui, insomma, il nome di Plauto sicuramente era un nome che attirava il pubblico a teatro, ecco perché probabilmente già nel primo secolo a lui se ne attribuirono così tante. Che cosa possiamo dire sulle commedie Plautine, prescindendo per un attimo dai titoli e dello specifico, ma più che altro su quelli che sono gli schemi generali di queste commedie. Cominciamo col dire che, per classificare queste commedie Plautine, dobbiamo appuntare appunto sulla Pagliata. Sono Pagliate, cioè sono delle commedie nelle quali Plauto si ispira a degli originali greci. Ci vedremo poi in che modo riscrive e in maniera elabora, in maniera assolutamente autonoma, quelli originali. E sono quindi tutte quante di ambientazione greca. Sono commedie che si possono agganciare ad una fase molto precisa della commedia greca, ovvero sia la cosiddetta commedia nuova, epoca ellenistica, dal IV secolo in poi, dalla metà grosso modo del IV secolo in poi. Probabilmente, in qualche caso, Plauto dovette guardare anche alla cosiddetta commedia di mezzo, della quale in realtà non conosciamo moltissimo. Per schematizzare, almeno in questa fase, il problema potremmo semplicemente ricordare che la commedia nuova è una commedia estremamente realistica, una commedia nella quale si mettono in scena personaggi quotidiani, la vita di tutti i giorni, quindi non eroi, non grandi personaggi della storia del mito, ma famiglie, padri, figli, con i loro problemi e le loro difficoltà. Nella commedia di mezzo è più difficile individuare una struttura. Da quello che sappiamo, dalle fonti, anche da una parte della ceramografia italica che spesso si ispirava alle scene di commedia, sembra che la commedia di mezzo fosse molto giocata sulla parodia mitologica. Ora, è probabile che Plauto, a queste due, e soprattutto alla commedia nuova, sia ispirato. Questo fatto lo confermerebbe anche la struttura tipica dell'intreccio delle commedie Plautine, una struttura nella quale un elemento fondamentale è il caso, è la tiuche. Plauto riprende, come si diceva, gli schemi tipici della commedia nuova, per cui anche le sue storie alla fine sono storie di famiglie, sono storie di padri e figli, sono storie di innamorati, anzi, tutti gli autori che si occupano di Plauto sottolineano come siano storie assolutamente ripetitive, e per cui Plauto da questo punto di vista è molto prevedibile negli intrecci e nei finali. E il più delle volte è il caso che fa sì che il protagonista, che in genere è un giovane innamorato di una ragazza e che cerca con tutti i mezzi poi di concretizzare questo suo sogno d'amore, ebbene, insomma, di sposare questa fanciulla, e il più delle volte le commedie sono così, insomma. Quindi ci sono figli e padri, ci sono appunto donne, ragazze, insomma, tutti i personaggi che incontravamo già nella commedia nuova. E l'amore è sicuramente uno dei temi cardini. All'interno di queste 21 commedie Plautine, autori e studiosi della Etatuarina, come per esempio della Corte, hanno provato anche a fare una classificazione, proprio perché gli intrecci sono ripetitivi e proprio perché le trame alla fine sono in genere molto simili, ecco, hanno provato a individuare quelli che possono essere come dire, gli elementi chiave per classificarle. Si parla per esempio di commedie dell'inganno, per indicare un gruppo di commedie in cui l'inganno è il meccanismo fondamentale del comico, commedie dell'agnezione, dove per esempio invece il riconoscimento di un personaggio attraverso magari un oggetto o una testimonianza che scioglie l'intreccio, commedie della beffa, giocate tutte quante quindi su un tiro, uno scherzo, che il più delle volte il servo, vedremo un protagonista delle commedie di Plauto, gioca al suo padrone, o per esempio le commedie dei simillimi, giocate appunto sui sosia, non a caso la parola sosia che noi oggi utilizziamo deriva appunto da un personaggio Plautino. I personaggi che vedremo poi meglio di approfondire anche a proposito del, come dire, dei meccanismi, del comico e degli obiettivi che Plauto stesso persegue sono i personaggi tipici del quotidiano di Roma, però è bene non dimenticare che sono personaggi i quali per chi andava a teatro erano lontani perché erano chiaramente greci e la commedia era il più delle volte ambientata in Grecia. C'è un protagonista che è un giovane e c'è un antagonista che ovviamente nel lieto fine verrà surclassato, verrà superato e diciamo che il protagonista il più delle volte poi finisce il più protagonista dell'intreccio insomma il più delle volte finisce per essere quasi offuscato nella forza nella vis comica da un personaggio che sarà tipico delle commedia di Plauto che è il Servus. Vecchi che vengono imbrogliati, le noni che vengono truffati insomma giovani che alla fine si diceva riescono a convolare a giuste nozze insomma a coronare il proprio sogno d'amore. E' chiaro che non è quindi questo l'elemento sul quale Plauto punta cioè non è la coerenza dell'intreccio non è l'omogeneità della storia ma è decisamente la vis comica che vengono a